Per ogni vampiro giunge prima o poi il momento in cui l'idea dell'eternità diventa per un istante insopportabile. Vivere fra le ombre, nutrirsi nell'oscurità con se stesso come unico compagno, marcire in un'esistenza vuota e solitaria. L'immortalità sembra una buona idea finché non si comprende che si dovrà trascorrerla da soli. Quindi mi addormentai, sperando che il rumore delle epoche che si succedevano si sarebbe dissolto e che sarei stato colpito da qualcosa di simile alla morte. Ma mentre aggecevo lì il mondo non sembrava più quello che avevo lasciato, aveva un suono diverso, migliore. Grazie. 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 Grazie.